Campionati nazionali universitari 2018, il CUS Molise, coadiuvato dall'Università degli Studi del Molise, ha formalizzato la propria candidatura. L'importante rassegna sportiva, capace di coinvolgere tra le 5.000 e le 6.000 persone, tra atleti, dirigenti e tecnici, costituirebbe per l'Unimol e per l'intera regione una prestigiosa vetrina. Molti territori ne beneficerebbero con delle ricadute, anche economiche. Tra queste realtà c'è Filignano. In una lettera, l'Unimol chiede al comune mainardico la disponibilità di due strutture sportive per la disputa di alcune gare. Si tratta del percorso verde di mountain bike e del locale campo da golf. Tutta la soddisfazione per la richiesta di questi impianti da parte del presidente di un'associazione sportiva filignanese. A riguardo di sentieri, il percorso è perfetto, quindi si presta molto a queste manifestazioni. Siamo arrivati alla quarta edizione della Mainard Baccherese, quindi dalla quarta edizione arrivare a questi livelli qua e fare queste richieste qua sicuramente ci onorano sia a noi come Iapka Iapka, il nostro gruppo, sia a tutto il comune di Filignano. Insomma, dal 9 al 18 giugno 2018 Filignano potrebbe essere uno dei gioielli messi in mostra dal Molise in grado di ospitare un evento di portata nazionale. Noi ci stiamo prodigando su questo filone qua e fino adesso i risultati ci sono stati, adesso ci si aggiunge anche il golf di Filignano che è anche un'altra realtà, una bellissima struttura. Adesso con la riapertura pure dell'albergo di Filignano, quindi siamo pronti a ricevere gente di qualsiasi tipo per queste manifestazioni.